C'è il Federico Chiesa! Federico! Federico Chiesa! Federico Chiesa! Da destra! Ci si può giocare con tutti insieme! Con tutti insieme! Che! Vaffanculo! 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 Apro il video così, con la mia esultanza al gol di Federico Chiesa e alla parata di Wojtek Szczesny che mi aveva fatto ben sperare nel portare a casa almeno un punto dal Maradona dopo una prestazione diversa rispetto a quelle che abbiamo visto nelle ultime partite di Juventus. Purtroppo non è andata così, purtroppo la Juve torna a casa con zero punti, una condizione di classifica di cui voglio parlare in un altro video, perché non è ancora arrivato il momento di parlare della classifica zona Champions, non zona Champions, la quinta, la sesta, la quarta, la terza. Adesso dobbiamo parlare di quello che è Napoli-Juventus, dobbiamo parlare semplicemente di quello che sta accadendo, che è accaduto ieri sera allo stadio. Stop! Il giorno dopo la partita è sempre questo. Per quello che è accaduto in campo, per quello che è accaduto ai microfoni, perché come al solito le dichiarazioni sono sempre molto importanti da commentare. Partendo da quelle di Giuntoli, nel pre-partita, siamo molto concentrati sul presente e a tempo debito, ci siederemo per parlare del futuro. Mi sorprende questa roba? Devo dirvi la verità, no. Perché Giuntoli fa due cose in una. Va sia a confermare le sue parole della settimana scorsa, e cioè andremo avanti con Allegri, siamo concentrati con Allegri, felici con Allegri, sia a mettere in discussione, perché a tempo debito quando sarà? Perché non lo è già adesso? Ci sarà un motivo o è soltanto che si divertono a portare avanti sta roba? Quindi Giuntoli dice Rödinger, che conferma e che esonera Allegri allo stesso tempo. Politichese, sì, ma anche forse una sorta di risposta molto pacata a quelle che sono state le parole di Branchini di ieri. E a tal proposito Allegri ha parlato di gioco delle tre carte, perché sia Sky che Adazon gli hanno chiesto delucidazioni su quelle che erano state appunto le parole di Branchini. Allegri ha voluto specificare che Branchini non è il suo agente, ma ha soltanto collaborato con lui in diverse occasioni per stendere dei contratti. D'accordo. Però a entrambe le emittenti ha dato una risposta emblematica, sorridendo, un bel sorriso a 32 denti da parte di Allegri, dicendo Io non lo so, non ne so niente, perché l'ha detto, boh, chiamatelo in studio e chiedetelo a lui. Ragazzi, non viviamo nel paese dei balocchi, vero? Siamo abbastanza tutti grandi e riusciamo tutti abbastanza a capire perché ci sono queste prese di posizione da parte di figure molto vicine ai protagonisti. Se Branchini ha parlato di Allegri in questo momento qui a una trasmissione condotta da Zazzaroni e Caressa, un motivo ci deve essere. E mi sembra anche superfluo e offensivo nei vostri confronti mettermi qui e spiegarvi il perché. A maggior ragione per quelle che sono state le parole di Allegri nell'ultimo prepartita e per quelle che sono ancora una volta le parole di Giuntoli. Sì, ne parleremo quando sarà il momento, quando sarà ora. Siamo felicissimi, però ne parleremo poi a tempo debito. Ma ragazzi, ma dai, poi può succedere di tutto, eh? E' un qui a dire che, finché non c'è la certezza, l'ufficialità, la nostra situazione è che le metti tutte insieme. Che cos'è? Poi mi dispiace che sia un discorso di pura propaganda politica. Perché a Sky, nel postpartita, al Senza Giacca, al club, Caressa, che ancora una volta fa la domanda ai suoi ospiti, ma secondo voi Allegri andrebbe confermato oppure no? Perché gli obiettivi stagionali alla fine li ha raggiunti. Al che che addirittura Beppe Bergomi gli dice Ma Fabio, ma è la stessa domanda che ci hai fatto la settimana scorsa? Ma secondo te? Ma posso cambiare la risposta che ti ho dato una settimana fa? Cioè, è due volte di fila che facciamo la domanda, ma Allegri andrebbe confermato no per gli obiettivi. Tant'è che a Pressing hanno fatto la stessa identica roba, mentre parlavano del Milan di Pioli. Dicendo, ma se Pioli si qualifica la Champions, a inizio anno gli hanno chiesto quello, ma come si fa a mettere in discussione un allenatore che raggiunge gli obiettivi? Ora, ragazzi, è anche il momento di distaccarsi un po' dal discorso degli obiettivi dirigenziali, degli obiettivi economici. Per quello vi dico che mi dispiace che non abbiate apprezzato tanto la chiacchierata con Giovanni Albanese di qualche giorno fa. Mi dispiace tanto che non l'abbiate apprezzata. Perché quella chiacchierata lì ci ha dato anche delle informazioni aggiuntive su quello che è il momento della Juventus e su quello che è il momento della dirigenza della Juventus, no? Ci ha dato delle informazioni aggiuntive da questo punto di vista. Diventa brutto quando poi leggi giornali o accendi le televisioni ed è soltanto propaganda politica. Perché poi è una rottura di palle, ve lo dico proprio sinceramente, è una rottura di palle. Perché quando si parla sempre solo di questo diventa una rottura di palle. E mi dispiace che Allegri abbia deciso di far diventare una tematica in questo momento per la Juve che, ripeto, non sta andando bene da due mesi a questa parte, si fatica a fare tre punti, si sono fatti il 95esimo in casa con una squadra che lotta per non retrocedere e la classifica può diventare un tema. Mi fa ridere però, mi fa ridere, che sia Radio DJ, sia Sky, sia Pressing, si sia parlato di questa fantomatica figura all'interno della Juventus che non avrebbe potere decisionale. No, ci sono delle persone dentro la Juve che pensano di avere potere decisionale, non hanno potere decisionale e che però adesso fanno un po' di confusione. Allora io mi domando perché non si fanno nomi e cognomi di queste fantomatiche figure, di queste creature mitologiche. Perché io mi ricordo che l'anno scorso nel CDA della Juventus viene inserita una figura a capo dell'area sportiva della Juventus. Figura che è stata poi ridimensionata per via dell'arrivo di Giuntoli che a quanto pare stasera scopriamo a Pressing che non può essere un dirigente che sceglie gli allenatori perché Giuntoli non sceglie gli allenatori, non l'ha mai fatto anche al Napoli. Vabbè, i direttori sportivi non sceglie gli allenatori. Vabbè. Ma questa figura che l'anno scorso era capo dell'area sport durante il momento di difficoltà che cosa succede? Viene ricollocata a gestire sì l'area sport della Juve ma per tutto quello che non riguarda la prima squadra. Questa figura tenete la mente non ve lo voglio fare neanch'io il nome penso di avervi già dato abbastanza indizi perché inizia ad essere divertente cercare di capire perché da due o tre giorni a questa parte si parla di una figura dentro la Juventus che ha potere decisionale ma non ha potere decisionale ma allo stesso tempo ha potere decisionale. Parleremo poi quando sarà ora magari. Però interessante constatare questa roba. Cambiamo argomento. Cerchiamo di parlare di Vlaovic che ha fatto una brutta partita e ne parleremo all'interno di quelle che saranno le pagelle dobbiamo assolutamente farlo. Però Vlaovic mi è piaciuto per un motivo va ai microfoni prende parola e dice io sono numero 9 della Juventus numero 9 della Juventus quando ha un pallone lo deve fare sono anche occasioni facili per me e devo migliorare se voglio arrivare dove penso di poter arrivare ad essere attaccante titolare della Juventus. presa di posizione autocritica lo sa ha sbagliato dei palloni pesanti anzi lui stesso dice oh magari faccio il primo andiamo avanti 1-0 la partita cambia certo è assolutamente così Dusan però io apprezzo chi sbaglia ma poi me lo riconosce è una cosa che è più forte di me mi fa piacere poi parole da leader perché gli chiedono ma a fine stagione in che modo sarei contento? e lui vuole il massimo arrivato a questo momento dice oh in questo momento se avremo un trofeo quindi la Coppa Italia e se ci qualificheremo per la Champions sta arrivando secondi e gli dicono ma scusami ma anche terzo e quarto ti qualifichi per la Champions sti soddisfano e lui dice no assolutamente no parole da leader e poi dice una carezza una carezza d'allegri che dice il mister è stato bravissimo ha inserito tanti giovani ha fatto un grandissimo lavoro eravamo in lotta per lo scudetto dobbiamo ascoltarlo e l'anno prossimo dobbiamo ambire lo scudetto perché nella Juve conta solo vincere e poi ci conferma che l'Impoli non ce n'era bisogno però ce lo conferma che la partita con l'Impoli a livello psicologico è stata una batosta per loro e hanno pagato con Inter, Udinese tutte quelle che sono venute dopo queste sono parole questa cosa mi piace assolutamente sì però poi voglio parlare di esperienza perché e poi dispiace che che passi il messaggio che la Juve perde Napoli per Nonge Nonge fa una cazzata non ho un altro modo di descriverlo però nel momento in cui inserisci Nonge devi anche essere consapevole che quanti minuti aveva con la Juventus prima di entrare oggi mentre eri 0-1 quanti minuti anzi 1-0 per il Napoli 60 minuti con la Juve 40-30 non lo so 60 60 ne ha fatti altri 14 avrà una settantina di minuti con la Juventus quindi quando lo inserisci vai anche un po' a ponderare no? accetti il fatto che possono esserci degli errori ma come li possano fare tutti? perché io quando sento che i giovani hanno le colpe allora io mi vado a ripescare quella che è la formazione dell'anno scorso di Napoli-Juve 5-1 Alessandro Scesni Alessandro Bremer Danilo Kostic Rabiot Locatelli McKennie Chiesa Miliche di Maria vado a fare un rapido controllo il più giovane qui in mezzo e Bremer che è un 97 McKennie che è un 98 non ci discostiamo tanto da questa cosa qui eh era un altro Napoli era un Napoli che avrebbe vinto uno scudetto stramiritando e stradominando in Italia però anche quella di stasera è stata un'altra Juve rispetto a quella dell'anno scorso quindi stop stop ai processi alla carta identità stop perché quando inserisci dei ragazzi del genere in un momento del genere in una partita così scottante in un ambiente così caldo accetti di prenderti dei rischi cioè è questo il punto focale del discorso Nonge fa una cazzata sì la Juve perde per colpa di Nonge no e da qui partiremo per le pagelle perché una cosa ve la devo dire quella di ieri sera è a memoria penso di sì a memoria l'unica partita in cui in stagione la grande grandissima responsabilità per non aver portato a casa il bottino pieno degli attaccanti dei difensori dei giocatori perché Vlaovic ha tre palle gol sublimi e te lo dice lui stesso devo fare gol Rugani ha una palla gol che rispetto a quella di Frosinone che tipo semi impossibile è bere un bicchier d'acqua Cambiaso dopo una gran palla di Locatelli spara là in fondo che sembra Cesar Prates quindi per me Allegri l'ha pure preparata discretamente bene sta partita molto meglio di come potevo immaginarmelo e quindi sono delle grandi responsabilità nei calciatori per questa singola partita ma qui si apre un discorso più ampio che parte da da quello che era stata la scelta della Juventus di iniziare la stagione facendo qualcosa di diverso già da Udine già da Udine poi arrivano quei 4 gol di Reggio Emilia e andiamo a cambiare le nostre priorità all'interno della partita cambia le prestazioni e cambia le percezioni di come vai ad avvertire la Juve che si era lì prima di Empoli e ce l'ha confermato anche Vlaovic ma ti dava un'idea diversa tra quella che abbiamo visto dopo Sassuolo e quella che abbiamo visto prima di Sassuolo ciao ragazzi